Allora, mister Lucisano, è arrivata questa battuta d'arresto sul campo del Varazze, una prestazione diciamo abbastanza sottotono, non avete creato molto, tanta difficoltà anche sulle palle in attiva, abbiamo visto un Varazze che l'ha preso quasi tutte sui sviluppi di calcio d'angolo di palla in attiva, cos'è successo dopo la bella prova di domenica scorsa? No, penso che oggi abbiamo fatto, come dici tu, una brutta prestazione, oggi a livello di testa non abbiamo fatto una gran partita e quando ti presenti in campo così fai fatica, oggi il Varazze secondo me ha più voglia di noi e ha dimostrato, oggi ha fatto il male di noi, ha meritato di vincere la partita, siamo consapevoli di questo. Un aspetto positivo da salvare in questa gara? Oggi pochissimo, devo dire la verità oggi pochissimo, non mi sono piaciuti i ragazzi perché era una prova importante per il nostro campionato, avessimo fatto qua un buon risultato, potevamo aspirare ad arrivare nei primi cinque, oggi una battuta d'arresto che non mi piace. Prossimi step da parte vostra, cosa vi aspettate e anche un primo bilancio in queste prime sette giornate? Ma io penso che abbiamo fatto bene, tranne oggi e tranne anche a Trenzano, non mi sono piaciuti i ragazzi, però giochiamo partita una partita alla volta, come dico i ragazzi, provando a giocare a calcio oggi non ci siamo riusciti, oggi sono un po' deluso di quanto la prestazione. Quinto posto? Noi giochiamo partita a partita, vediamo cosa arriva, ci spero, ci speriamo come tutti, però vedremo più avanti. Con queste prestazioni è difficile, con le prestazioni di domenica scorsa sì.